L'avventura inizia in Carnia, nella Val Pesarina, presso l'albergo Pradi Bosco, da dove una invisibile strada forestale ci consente di accedere alla valle del rio di Malinis. Nonostante i ponderosi ostacoli che ci sbarrano la strada, l'allegria è al massimo come sempre, ben conservata dalla rigida temperatura. Passano un paio d'ore e poi appare il sole tra gli abeti. All my dreams came true once more in tears, in tears. Posto paradisiaco la casera Malinis, infatti abita qui anche chi se l'intende, la Volpe. Seguiamo l'esempio Volpino e per un quarto d'ora questa sarà anche casa nostra. Lasciamo la casera e saliamo su una collinetta soprastante che sembra essere il posto ideale da dove partire. Certamente promessa mantenuta, favoloso. La messaggia è perfetta, favoloso. La sentenza è perfetta, famiglia. Non si trattare a far, non si trattare a far, non si trattare a far. La sentenza è perfetta, semplice. La sentenza è perfetta, semplice. Il prato vellutato è finito. Adesso inizia il bosco, dobbiamo riaverci un attimo dall'estasi e capire bene dove scendere. Canale o dorsale, un rapido consulto e il dado è tratto. Canale o dorsale, un rapido consulto e il dado è tratto. E canale sia, decisione azzeccatissima. Ciao. Ciao. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti